Se hai riscontrato problemi di lag su Fortnite nella nuova stagione ovviamente è possibile risolvere i lag e aumentare gli FPS con tre metodi come puoi vedere io sto laggando a morte è possibile diminuire la grafica e aumentare gli FPS su Fortnite quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato il pacchetto che ti porterà sulla pagina per scaricare il programma Nvidia Profile Inspector il programma che ci aiuterà a diminuire la grafica e aumentare gli FPS poi come secondo metodo ti spiegherò alcune modifiche alle impostazioni di Fortnite nella libreria di Epic Games e come ultimo passaggio non ci resta che andare su Fortnite e fare modifiche alle impostazioni quindi come primo passaggio andiamo un attimo sul nostro pacchetto Nvidia Profile Inspector se hai problemi con il link entra nel mio server Discord e ti manderò io stesso il pacchetto per fare queste modifiche quindi andiamo un attimo su Nvidia Profile Inspector.exe in alto a sinistra scriviamo così Fortnite scendiamo fino a giù fino a trovare l'anti-lasing questo qua metti l'ultima metti questa qua che finisce con 08 doppia mod replay se non la tieni metti quella del 10 ok scendiamo fino a giù fino a trovare così la texture filtering ed ecco l'acqua tu metti on e qua cominci a modificare il DirectX e questa qua per l'OpenGL quindi scendi fino a giù fino a trovare il 2.7500 stessa cosa anche con questo una volta fatto text filter di qualità high performance e fai applica applica più volte finché non va una volta fatto chiudiamo un attimo qua io ho visto che ho una scheda grafica 1660 Super vado direttamente sul pannello sembra che ti ho lasciato in descrizione che si chiama Nvidia App l'applicazione che ci permette di configurare la nostra scheda di aggiornarla e fare anche delle modifiche ai nostri giochi su grafica Fortnite ed eccolo qua e il gioco non è ottimizzato metti fino a giù prestazioni e fai ottimizza impostazioni globali frequenza fotogrammi massimo 1000 fps compatibilità G-Sync potenza ottimale qui invece ho messo disattivato sincronizzazione verticale se metti attivo ti bloccherà gli fps quindi metti disattivato una volta fatto possiamo anche chiudere il programma ora andiamo direttamente su Epic Games andiamo così nella libreria di Epic Games quindi giochi forti e tre puntini vado su opzioni ed ecco qua la fregatura texture ad alta risoluzione shader DirectX 12 e la prescarica le risorse trasmesse se in questo caso hai queste funzionalità attive è probabile che fai pochi fps e quindi ti ha migliorato la qualità su Fortnite e migliorato anche la texture quindi se tu disattivi questa quindi texture ad alta risoluzione togli la DirectX 12 e prescarica le risorse trasmesse non ti preoccupare che togliendo questo Fortnite si avvia si avvia lo stesso quindi fai applica disinstallo così le cose che non mi servono e ora come ultimo passaggio è entrare in Fortnite e fare queste modifiche ed ecco che Fortnite si sta avviando anche togliendo quelle funzionalità ora entriamo direttamente su video modalità finestra schermo intero il v-sync per bloccare gli fps metti no risoluzione scegli la tua risoluzione scendiamo fino a giù fino a trovare il modalità di rendering DirectX 11 la sfocatore in movimento metti no preimpostazione qualità risoluzione 3D io metto sul 50% faccio applica ora mettiamo distanza visuale metti epico texture metti medio effetti metti medio post processing metti ridotto e basta una volta fatto scendi fino a giù per trovare mostro fps riguardare invidia reflex e base alla denza metti on più boost e fai applica una volta fatto entriamo a giocare quindi facciamoci una partita forte e vediamo quanti fps facciamo come puoi vedere gli fps sono aumentati però abbiamo diminuito così la grafica sopra in alto come puoi vedere la c'erano 72 fps 188 fps quasi fino a che questi sono gli fps e siamo anche sotto la montagna fino a un massimo di 201 fps se non ti piace com'è la grafica puoi semplicemente ripristinare i dati sul pannello di controllo di nvidia profile inspector non ti piace così la grafica com'è devi soprattutto cliccare qua sopra ripristina tutti i dati e chiudi qua e poi devi riavviare Fortnite quindi grazie a tutti per questa visione iscriviti lascia like per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao